Ad Arpino, in provincia di Frosinone, nel Lazio, la domenica dopo il 16 agosto si svolge la festa del Gonfalone. In occasione della festa del Gonfalone, che è un drappo decorato con due torri sormontate da un'aquila, ad Arpino si svolge quindi una grande festa che richiama molti turisti e che comprende manifestazioni folcloristiche, un corteo storico e sei gare tra le contrade del paese per aggiudicarsi il Gonfalone. La mattina in piazza Municipio i contradaioli in costume tradizionale fanno delle esibizioni folcloristiche per rappresentare gli antichi mestieri e le tradizioni del luogo. Nel pomeriggio si svolge una sfilata in costume e quindi hanno inizio le gare per la conquista del Gonfalone. La sfida consiste in varie competizioni. La corsa degli asini, in cui il Fantino cavalca un asino dotato solo di briglie e morso. La corsa con la carriola, del peso complessivo di circa 50 kg. La corsa con la cannata, nella quale le donne del luogo, vestite del costume tradizionale, competono tenendo in equilibrio sul capo un'anfora di terracotta piena d'acqua. La corsa con i sacchi, la staffetta e il tiro alla fune. La sera avviene la premiazione e la contrada che durante la giornata ha totalizzato il risultato migliore si aggiudica il Gonfalone.